Questo dipinto fa parte del ciclo dei cavalli, un ciclo pittorico che si sviluppa per circa 7 metri di lunghezza all'interno della grotta Chauvet, nel quale sono raffigurati una trentina di animali di diverse specie, cavalli, cervidi, uri e rinoceronti. Vediamo qui raffigurati un uro al centro, una renna in basso e la testa di una seconda renna in alto. Il segno nero dei contorni, perfettamente delineati con poche sicure linee, riesce a raggiungere un effetto di grande naturalismo. Il senso del volume è ottenuto sfumando i contorni verso l'interno. I soggetti raffigurati rimandano a pratiche di tipo magico propiziatorio. Per l'uomo primitivo, infatti, dipingere un animale significa cercare di impadronirsene mediante l'immagine prima ancora di averlo cacciato nella realtà. Per lo stesso motivo, spesso degli animali sono raffigurate solo le teste, le corna o le fauci, che ne rappresentano la sintesi più efficace, quasi una sorta di simbolico trofeo.